Roma, 10 febbraio 1834. Stamane ho visitato le gallerie Sciarra, Colonna e Doria e non finirei se volessi dirvi tutte le cose belle in esse vedute, tele, paesaggi, madonne, ritratti degli autori più celebrati. Dirò d'una tela soltanto, ammirata nella collezione Doria, la quale tenne mia sé per lungo tempo e mi piacque tanto che non sapeva decidermi a distaccarmene e tornerei con piacere a vederla un'altra volta. Essa tela è considerevole non solo per bontà di disegno e di colorito ma per potenza e profondità di pensiero. È opera di Salvatore Rosa e rappresenta Belisario che medita in solitudine ai piedi di un monte desolato dal quale sgorga un limpido ruscello. Di fronte si innalzano rocce aride e nude e sopra di esse si stende il cielo fosco e tempestoso. Un albero dai rami infranti e spezzati dall'uragano è disegnato in piena luce e così la figura di Belisario sul cielo burrascoso. Quanti pensieri e sentimenti risveglia quel contrasto di luce. Nel rovescio di ogni grandezza onde è circondato quell'infelice, mentre limpida e tranquilla gli sgorga ai piedi l'acqua del ruscello, non si può non vedere il trapassare incontrastato dei secoli che né una forza vale ad arrestare o turbare soltanto. La posa del veliardo famoso è piena di espressione. Uno dei ginocchi egli piega a terra, la testa accenna ad inchinarsi sul petto, ben si scorge che malgrado di ogni resistenza essa finirà con piegare affatto al suolo. È l'espressione dell'energia e del coraggio dell'uomo in lotta con le vicende della vita e sopra di essa, della essa tela, spiegasi soave e dolcissima una delle più belle madonne del sasso ferrato. Tiene ella nelle braccia il bambino Gesù, destinata a diminuire l'uomo del supremo dolore, e questo sorride alla sua madre, che non ignora la storia delle future sue angosce. Essa è tranquilla e rassegnata. Una pace di cielo riflettesi e dà lume alle sembianze sue di paradiso. Nella figura di Belisario è manifesto il lottare intrepido dell'uomo contro gli avvenimenti che gli sono avversi. In quella della Vergine la rassegnazione è confidente che tutta si abbandona in Dio. Per Belisario la terra sconvolta e in rovina non ha più conforto per nessuno. Per la Vergine, tra il pianto e il dolore onde è piena la terra, germoglia la speranza.